Il buongiorno si vede dal mattino con Corne Cappuccino, il primo talk show sul tradimento dove l'etica è un'opinione. Io sono Clara Murnau dell'Istituto di Investigazioni Europol. Buongiorno e benvenuti a Corne Cappuccino. Sempre più spesso in agenzia riceviamo telefonate per consulenze che trattano di un argomento molto particolare e vorrei approfondirlo con voi, ovvero oggi parliamo di erotomania o sindrome di Clé Rambaud. In psichiatria per erotomania si intende un disturbo di tipo delirante in cui il paziente ha una convinzione infondata e ossessiva che un'altra persona nutra dei sentimenti d'amore e passionali nei suoi confronti. Nella forma più comune di questa patologia generalmente il paziente si innamora di una persona famosa, quindi irraggiungibile, o di qualcuno di una condizione sociale superiore o comunque diversa da quella del soggetto. Viene chiamata sindrome di De Clé Rambaud dallo psichiatra francese che per primo ne ha studiato, non è stato il primo, ce ne sono stati altri, ma diciamo che quello che ha formulato meglio e più approfonditamente questa dinamica fino ad arrivare nel 1921 a pubblicare un trattato chiamato le psicos passionelle. La convinzione di essere amati da questo qualcuno che appunto definisce l'erotomania è costellata da una serie di sintomi secondari in cui la persona che ne è afflitta, quindi che è soggetta a questo disturbo, inizia a trovare una serie di segnali ovunque che vanno a giustificare questa sua credenza dell'innamoramento anche dal parte del soggetto che magari neanche lo conosce. Molto spesso si può arrivare addirittura a creare un vero e proprio mondo parallelo immaginario in cui la differenza fra realtà e percezione della realtà è davvero sottile e quando questa situazione diventa radicata e permanente sfora anche in un altro disturbo che si chiama appunto schizofrenia ma non saremo qua a parlare di questo. Concentriamoci invece su l'erotomania o sindome di Desclerambault. Ma cosa succede esattamente? Per esempio può capitare che il paziente pensi che l'oggetto del suo desiderio da cui lui si crede corrisposto inizia a mandargli dei messaggi segreti anche attraverso l'utilizzo di social media, televisivo, sui giornali inizia a trovare dei segnali che vanno a convalidare la teoria che questa persona provi per lui un interesse. A volte l'erotomania può nascere anche non per forza da un rapporto completamente idealizzato o non esistente ma può essere anche la conseguenza in soggetti particolarmente predisposti di un rapporto avuto in precedenza magari appunto il famoso one night stand, un incontro di una notte o comunque di poco conto nel termine di relazione che poi viene idealizzato dalla persona e portato avanti con la convinzione che in realtà ci sia molto di più oltre a quello che si è strettamente vissuto. L'erotomania si sviluppa in tre fasi, vediamole. Prima fase, fase della speranza. In questa fase che può essere anche davvero lunga il paziente si ritrova nella speranza, nella continua attesa che l'oggetto del suo desiderio si dichiare appartemente e che quindi contraccambi in maniera plateale il sentimento. Molto spesso le persone affette da erotomania rimangono in questa fase, per sempre. Seconda fase, fase della delusione. Si scontra con la realtà, le viene presentata l'impossibilità di questa relazione, la non veridicità di quello che pensava e purtroppo può capitare che cada in depressione o inizi a soffrire di episodi di aggressività o possa nei casi più rari, ma ci si può arrivare purtroppo, diciamo che c'è statistica anche su questo, arrivare a minacciare il suicidio. In taluni casi si può anche riscontrare che il paziente, quindi la persona affetta appunto da questo disturbo, possa prendere le distanze con quel che è successo rimuovendo gran parte dell'accaduto, quindi rinnegandolo. Terza fase, fase del rancore. Ecco questa diciamo che è la fase più pericolosa ed è quella che ci dà proprio il riscontro totale della gravità della situazione della patologia del soggetto che soffre di questa ossessione, perché può sfogarsi in un'aggressività che va a riversarsi verso l'oggetto del desiderio da cui si sente rifiutato. Quindi possiamo parlare di stalking, possiamo parlare di moleste, possiamo arrivare a vere e proprie minacce. In rarissimi casi abbiamo avuto anche degli episodi che sono purtroppo sconfinati anche nell'omicidio o nel tentativo di omicidio. Nella sua forma pura la sindrome di Clarenbole, ci dicono gli esperti, non ha una frequenza così elevata. Pensate che ci sono dei casi storici riportati che coinvolgono anche i reali. Uno dei più famosi è quello che riguardava Giorgio V, dove una donna di 53 anni francese era convintissima che il re d'Inghilterra fosse innamorato di lei e che le prove di quest'amore consistevano in determinati spostamenti delle tende di Buckingham Palace che lei interpretava come un segnale misterioso fra loro due per comunicare e fargli capire il suo interesse. Per andare troppo lontano vi posso dire che nella mia esperienza investigativa mi è capitato più volte negli anni con una grande incidenza nell'ultimo periodo. Ecco perché mi ritrovo qui su youtube a parlare di questo argomento che persone si siano invaghite arrivando al limite dell'ossessività e in alcuni casi anche avendola superata in confronti di persone magari incontrate sui social media e a cui hanno attribuito uno scambio d'amore ed interesse che in realtà non c'era mai stato. Un caso particolare che mi è sempre rimasto impresso è quello di una donna che ci chiamò per chiederci di aiutarla a avere l'indirizzo di Gabriele Garco con cui lei intratteneva una relazione da più tempo tramite facebook. Naturalmente il signor Garco non aveva assolutamente nessun tipo di interazione con questa donna ma questa donna era convinta dell'interesse di Garco grazie ad alcuni messaggi che le interpretava fra virgolette guardando il social media di questo attore quindi era una cosa assolutamente non si basava su nulla ed è stato molto molto difficile far capire alla signora che noi non potevamo fare nessun tipo ovviamente di investigazione perché non ce n'erano assolutamente i presupposti cercare magari di aiutarla a contattare un altro tipo di professionista per il suo problema. Quindi l'erotomane costruisce un impero di false credenze su cui basa questo amore in cui vede una speranza proprio per questo che molto spesso cerca di entrare in contatto con l'oggetto del suo desiderio arrivando appunto a delle vere e proprie molestie che possono essere continui messaggi tentativi di stalki se sanno dove si trova la persona tentativo di entrare nel radar della vita di questo soggetto che è malcapitato quasi diciamo cui cercherà pian piano di entrare nella sua vita nella sua intimità è qui che sfociamo nei veri e propri casi di stalking ci sono state alla ribalta delle situazioni anche in italia famose come quella successa alla cantante fiorella mannoia che è finita addirittura in tribunale appunto per un'esagerazione da parte di una fan che aveva iniziato a pensare di avere un rapporto speciale con appunto il suo idolo attenzione molto spesso si utilizza impropriamente il termine erotomane sono sicura che alcuni di voi quando abbiamo iniziato questa discussione abbia pensato che avremmo parlato di dipendenza da amore sesso ma no quando si va a parlare di dipendenze di tipo sessuale bisogna utilizzare i termini corretti si tratta di ninfomania se parliamo di donne e si tratta di satiriasi se parliamo degli uomini l'erotomania si riferisce esclusivamente all'amore non corrisposto le cause che possono portare a soffrire di questa patologia sono naturalmente da andare a cercare all'interno di traumi e naturalmente parliamo di traumi di natura psicologica riconducibili a situazioni di rifiuto sono soprattutto le donne a esserne colpite ma naturalmente anche gli uomini non ne sono esenti nonostante in una percentuale statisticamente minore non è facile riconoscere un erotomane di prima chito infatti i sintomi che caratterizzano questa patologia sono in realtà riconducibili a tanti altri tipi di disturbi possiamo trovare una particolare aggressività un distacco dalla realtà anche una sorta di nervosismo quando magari gli si vanno a fare delle domande relative a questa relazione che hanno completamente idealizzato o inventato di sana pianta i loro discorsi portano con sé uno scarso equilibrio una non coerenza sono pieni di buchi logici sono sovrastrutturati da bugie che servono a loro stessi a giustificare quello di cui stanno parlando la scelta dell'oggetto del desiderio da parte di un erotomane non è mai casuale perché va sempre a iscriversi in una serie di caratteristiche che il soggetto ricerca e a cui si sente di non poter ambire con facilità ecco perché magari uno si innamora in questo caso vi avevo raccontato di gabriel garco e non di silvio berlusconi perché probabilmente gabriel garco rappresentava un ideale di uomo che questa persona ricercava e a cui non aveva mai avuto accesso di anche la scelta non è affidata al fatto ma viene rinchiusa all'interno di tutta una serie di desideri repressi che la persona non è mai riuscita ad esaurire e ad esprimere ricordandovi che l'amore non corrisposto è un'esperienza comune è assolutamente naturale nella vita di ogni individuo voglio chiarire che se si dovesse essere vittime in un senso o nell'altro della sindrome di clérambol e quindi si inizi a vivere un'esperienza di rifiuto di non realizzazione dell'oggetto del proprio desiderio in concretizzazione di un rapporto l'unica strada sana percorribile per uscirne è la terapia quindi affidatevi sempre ai professionisti per risolvere quei piccoli magoni che non si riescono a mandare giù se vi è piaciuta questa puntata di corne cappuccino vi invito a seguire il canale e se avete